Ci troviamo al ristorante vegano I Sapori di Lilla a Mentana vicino Roma e vicino casa mia Mi hanno invitato in questo fantastico locale piccolino ma molto lussuoso, molto elegante e soprattutto completamente vegano E infatti, cosa molto carina che c'è scritta sul menù, ecco qua, anche il tuo cane può mangiare qui vegano ad un euro Quindi la prossima volta ci porto nicotino Ci abbiamo al menù da sporto Ci abbiamo vari primi secondi, seitan, una scaloppina di seitan, ecco questa la voglio assaggiare Pevande, alcolici, vini, vini rossi, vini bianchi, più ne ha più ne metta, liquori, tisane, eccetera, eccetera Il ristorante, come diciamo, è veramente bello Ci si può venire solo su prenotazione, quindi chiamate prima, è chiuso il martedì Adesso sbirciadina in cucina e poi vi saluto Eh no, la cucina la vediamo solo C'è qua che Lilla ci ha appena portato i sapori di Lilla Dicevi cosa mangiamo di buono oggi? Questo è un risotto Un risotto di spinaci con il maggio pallinone E spolverate il fluido Wow, grazie Lilla Ma cosa stiamo mangiando Lilla? Grazie, grazie mille